La serie delle Rubasian Tubertini per la stagione 2017 comprende due serie, la serie Black e la serie Yellow. Ora presentiamo la serie Yellow. La serie Yellow è costituita da tre canne, la Match, la Carp e la Impact. Queste canne sono costruite sempre nella struttura in otto pezzi e mantengono sempre la caratteristica delle basi parallele. Cosa vuol dire? Che le basi parallele hanno la stessa conicità, lo stesso diametro, dai 10 ai 13 metri. Di conseguenza nelle ultime tre basi, cioè la base a 13, la base a 11 e la base a 10, può essere utilizzato la stessa mini prolunga. La serie Yellow, a differenza della serie Black, ha una conicità, un diametro di base leggermente superiore. In questo caso si possono ottenere delle canne più rigide, più affidabili, a scapito un pochino della bilanciatura, ma l'importante di queste canne è che siano estremamente affidabili e bilanciate. Su queste canne possiamo montare otto tipi di kit diversi. Infatti queste canne vengono proposte senza kit, in modo che l'utilizzatore finale possa decidere, in base alle proprie esigenze, quale kit utilizzare su queste canne. La gamma dei kit è la stessa dell'anno della stagione 2016, alla quale però è stato aggiunto due tipi di kit. Un kit che è il top di gamma, che è stato costruito con un materiale di nuova concezione che si chiama R18. Questo kit diventa estremamente leggero ed estremamente affidabile e molto rigido. Di conseguenza conferisce alla canna caratteristiche di estrema leggerezza e bilanciatura. Un altro kit che è stato aggiunto è il kit combat, che si affianca al precedente strong per quanto riguarda comunque pesche più gravose. È un kit effettivamente molto molto affidabile. Tutta la serie yellow è costruita sulla stessa mandrinatura. Di conseguenza ogni canna fa da muletto alle altre. In questo caso molto interessante è la impact, che è una canna estremamente affidabile, quindi può essere utilizzata per pesche gravose e per catturare pesci anche di notevoli dimensioni ed oltretutto può essere utilizzata anche come muletto per le altre due. La differenza tra tutti i kit della gamma precedente con la gamma del 2017 è l'inserimento sul secondo elemento di questa fascetta di rinforzo. Su questa fascetta può essere applicato la boccolina che può essere utilizzata per strippare con l'elastico quando siamo in presenza di pesci di grosse dimensioni.